15 luglio 2014. Mi spieghi quelle ore? Perché io me le ricordo come se fosse oggi. Eh? Cioè, cosa è successo? Anche noi abbiamo detto... Ah, anche voi, perfetto. Noi ci siamo trovati a Vinovo, perché c'era ancora Vinovo, quindi per iniziare la stagione. Allora, Antonio ci ha convocato in riunione e ha detto, ragazzi, io... Ma quel giorno lì proprio? Sì, sì, sì. Cioè, non era uscito niente? No, no, no. Madonna! Bomba è questa. Siamo andati la sera in ritiro, perché eravamo in ritiro, però lui era già deciso di andare via. Quindi siamo stati una sera in ritiro, poi il giorno dopo... Eh, me l'avete presa? Ah, me l'avete presa... Sicuramente non benissimo. Eh... Perché eravamo spiazzati, non sapevamo neanche il motivo per quello... Che non si sa... Che lo sa solo lui. E siccome lui non l'ha mai detto, nessuno gliel'ha mai chiesto. Quindi magari è meglio evitare di andarsi a scontrare su certe cose che magari lui non ha piacere a dire. Certo. Quindi è meglio. Certo. Grazie.